Ciao ragazzi sono 7 e benvenuti in un nuovo video. Come avete visto e come annunciato, oggi parte la serie di video in cui analizzeremo insieme, partendo dal peggiore, arrivando fino al migliore, dei personaggi di Vikings. Molti personaggi sono corsi durante questa serie, alcuni i migliori, altri diciamo mestiziamente più brutti, di cui dovremo parlare adesso. Infatti partiremo dal fondo, dai 10 personaggi che secondo me, la mia modesta opinione, sono i peggiori che abbiano mai varcato la solle di Vikings. Quindi spero che il video vi piace e spero di non sclerare troppo. Al 61esimo posto della classifica, in fondo proprio sottoterra rispetto al livello del mare, ma anche del livello della fossa delle Marianne, troviamo Margaret. Sì signori, finalmente posso dare a Margaret quello che si merita. Sappiamo tutti chi è stata Margaret, sappiamo che cosa ha fatto, sappiamo che è una persona, un essere umano così irritante, così veramente da prenderla a schiaffi. Niente, violenza sulle donne, si parla chiaro, ma c'è come una faccia del genere, cazzo. Come fai a non volerla schiaffeggiare? Come fai? Cioè non puoi trattenerti appunto. Lei opera in tutti i modi per tramare alle spalle di... si fa tutti i figli di... appunto tutti i figli di Ragnar, prima cosa. Solo Ivar si rende conto che è quello che è, ossia una, diciamo, una persona dei facili costumi che vuole solamente il potere. Ecco, e tenta in tutti i modi, passando da un fratello all'altro, di scalare il potere, arrivando addirittura a tentare la vita stessa, con le parola ovviamente di Lagherta, per ottenere il potere qualcosa di più della vita. E lei, dopo tutte queste trame, questi intrighi, si riduce a quello che è. Cioè una persona senza alcun senso, senza alcuna, diciamo, caratteristica positiva, che si merita la fine che ottiene. Avete visto com'è finita? Se non l'avete visto com'è finita con Margaret, insomma, andatevela a vedere, ma vi dico solo che quando è morta Margaret, veramente, io ho stappato uno spumante e me lo sono scolato tutta la bottiglia. Vi dico solamente questo. Al sessantesimo posto, ragazzi, troviamo Magnus. Magnus, che è veramente stato qualcosa, una delusione incredibile, ragazzi, veramente. Quando, diciamo, avevo visto che c'era la possibilità di uno sviluppo di un figlio, che poi figlio non si sapeva se era effettivamente lui di Ragnar Lodbrok e della regina Quentrit, mi sono detto, cazzo, vuoi vedere che adesso che ritorna succedono cose, magari finisce in Orreni, avrà una storia in sua particolare, che magari lo condurrà a un percorso opposto a quello che mi ha fatto Ragnar, che dal mondo pagano è arrivato al mondo cristiano, lui dal mondo cristiano arriva al mondo pagano perché si sente un figlio pagano. E invece no, mi muore completamente a caso nella battaglia di Kattegat con Harald, che appunto tenta di proteggerla, ma Magnus è talmente pirla da esporsi e si becca giustamente una freccia nell'occhio, nel cuore, dove cazzo l'ha preso, comunque si becca una freccia e muore così come uno stronzo. C'è tutta la sua costruzione, il personaggio durante tutta la serie, ce lo stavano gasando veramente tanto, visto ce lo stava veramente gasando tanto Magnus, eppure non è servito a un cazzo, non è assolutamente servito a niente, qualcosa che mi ha lasciato davvero deluso, uno dei personaggi peggiori che ho visto in questa serie, per la sua, diciamo, per la delusione che era creato, per la sua morte insensata. Io vi giuro su quello che volete, che di questa qui, io ho dovuto andarmi a cercare il nome in rete, perché non me lo ricordavo, non mi interessava in primo luogo scoprire qual era, ma ovviamente secondo questa classifica devo sapere il nome, e l'ho scoperto e l'ho messa appunto come alla posizione numero 59. Perché l'ho messa alla posizione numero 59? Perché semplicemente è un metodo di Bjorn per sfogarsi, cosa serve? Cosa serve sta ragazza se non altro che a copulare con Bjorn? Sì, ok, partecipa a una battaglia o due, ma crepa subito, cioè non è stato altro che uno sfogo tra battaglia e battaglia per Bjorn. Alla fine, niente, è così, è morta come una stronza pure lei, insieme al padre, insieme a tutta, insomma, la sua congrega, l'idea dei Sami, e sta principessa qui appunto non è servita altro che a un, diciamo, un intermezzo per portare Bjorn a sfogare, diciamo, la tensione della battaglia. È questo che ha servito alla... questa qui. Questa qui è proprio uno schifoso, veramente uno schifoso personaggio, davvero. Bishido, Erlendur, al cinquattottesimo posto troviamo Erlendur, e c'è un motivo per cui l'ho messo in questa posizione, così, in basso nella classifica. Perché sostanzialmente è un personaggio che non è amabile, non ha un senso, e tutto quello che fa lo fa alla cazzo di cane. Lei vuole attentare la vita di Bjorn per vendicarsi della morte del padre, perché ovviamente adesso è il re Ragnar, quindi vuole attentare al figlio di Ragnar, giustamente, ma lo fa con una tale, diciamo, idiozia che veramente sono rimasto... No, dai, tipo, non lo stai facendo davvero. C'è Mardon Berserk contro Bjorn, che si deve essere una pippa clamorosa, perché Bjorn lo ammazza tranquillamente, e tenta appunto di costringere Torvi contro Bjorn, fallendo clamorosamente, tant'è che si becca un dardo da parte di lei, per dire, no? E, appunto, tutte le sue trame, i suoi intrighi per tentare... Eh, adesso io attacco Bjorn, lui non si accorgerà mai che glielo sto... glielo sto attaccando, non si accorgerà mai, e invece Bjorn lo sapeva dall'inizio, che non ce l'aveva con lui. L'ha capito pure Bjorn, cazzo, l'ha capito pure Bjorn, cazzo, che lo stavi attaccando, sto stronzo. Quindi, veramente, un personaggio detestabile e senza alcun senso. Cioè, i due io, veramente, ragazzi, non l'ho capita, uno dei personaggi peggiori. Al posto 57 troviamo la nostra spacciatrice preferita, quella che non ho capito innanzitutto del perché un personaggio cinese è nel mondo vichingo, non l'ho capito assolutamente, cioè, come cazzo è possibile? Sì, potete dirmi che l'ha presa a schiava da altri posti, da altri luoghi, che è stata portata in mare, magari venduta perché era esotica, sì, ho capito, ma che cazzo ci fa? Una cinese, cazzo, di catte, gatto, non l'ho ancora capito. Comunque, a parte questo, ma il fatto è che questo personaggio mi è stato costruito in una maniera tale che io pensavo, ma cazzo, vuoi vedere che questa è la figlia dell'imperatore? Adesso Ragnar va a conquistare la Cina, una roba del genere, prende parte, va verso l'Oriente, Ragnar conquista anche l'Oriente? No, niente di tutto questo. Infatti, i due muore come una povera crista, cioè, nella stessa stagione, per mano dello stesso Ragnar perché non ha più stupefacenti con sé, quindi la nega perché, appunto, minaccia di rivelare la verità sull'insediamento norreno in Inghilterra a tutti quanti. Quindi Ragnar, senza troppi giri di parole, la prende e la affoga. E qui finisce il personaggio. C'è una possibilità molto sprecata, a mio parere, ma in primo luogo non ho capito cosa ci fa una cinese qui. Comunque, vabbè, sono io che. Comunque, questa ricalca il posto numero 57. Ebbene sì, al posto 57 troviamo Sigurd sterpe nell'occhio. Perché? Perché è semplicemente un personaggio detestabile a livelli inimmaginabili. Non fa niente di buono ai fini della trama. Viene oscurato costantemente dalla figura di Ivar. Non fa altro che provocare Ivar, perché è geloso, nonostante la sua condizione di storpia, è gelosissimo del fratello per la sua intelligenza. E non fa altro che provocarlo per tutto il tempo, quella merdaccia. Alla fine, giustamente, viene colpito da quello che si merita, ossia un'ascia nel ventre. E quando l'ha colpito, io ero veramente sì, cazzo, bravo Ivar che l'hai fatto, bravo Ivar che si siamo tolti questa rotola di balle. E no, non sono d'accordo con quelli che dicono che Sigurd sarebbe potuto essere un personaggio più sviluppato, più, diciamo, concreto, più, diciamo, approfondito. No, era quello che si meritava, semplicemente. Non ha fatto altro che provocare Ivar per tutta la durata del suo screen, di quando era dentro, appunto, la stagione. E non c'è altro da dire, il figlio di Rangan è assolutamente più, diciamo, detestabile e più inutile, che giustamente se n'è andato prima ancora di che potesse avere un senso nella serie. Citando un personaggio proveniente dall'arco di Slanta, ma l'arco di Slanta verrebbe un video a parte, perché è la storia che secondo me ha rovinato la stagione di Vikings, Eilind è il personaggio più rompicoglioni che abbiamo incontrato in tutta la mia carriera da video recensore. Non ho incontrato i personaggi rompimaroni. Comunque, Eilind semplicemente non è inserito nell'interno dell'arco di Slanta ad altro che a rompere le balle a Flocky al suo sogno di costruire una colonia dove non regni la violenza. Cioè si fa, no, io voglio fare questo, no, io voglio fare l'altro, Flocky quando arriviamo, Flocky dove sono le risorse, Flocky di qua, Flocky di là. Mi sono stupito, io volevo che Flocky questo qui lo prendeva con un colpo d'asce e lo ammazzava, veramente. Non c'è arrivato a un punto in cui non ce la facevo più, e quando appunto il buon Chietil gli ha fatto una spia alla larga, il buon Chietil gli ha fatto una spia, sono stato troppo contento, davvero. Non ce la facevo più a contener la mia gioia di vedere questo personaggio, insieme a tutta la sua famiglia, perché tutta la sua famiglia è appunto come lui, cioè una famiglia stronza, veramente una famiglia stronza, morire. Non è servito altro che demolire il sogno in una colonia felice per Flocky, e per questo è qualcosa che veramente deve, per questo deve morire, deve morire malissimo. Veramente è un personaggio rompibarone. Veramente è un personaggio rompibarone. Per portare via Bjorn e Avdan, e niente, è rimasta lì e non è stata sviluppata in alcun modo, ma il fatto è che è stata talmente cogliona da fare in modo che i suoi guerrieri non uccidessero immediatamente Bjorn, Alfa del Sinric, e li ha lasciati in balia dalla tempesta di sabbia, in tal modo non sono stati ammazzati, cioè veramente una decisione stupida. E poi questo personaggio non viene più approfondito, non viene più ripreso. Sembrava, diciamo, l'inizio, come ho già detto, di una prospettiva interessante, di una storyline interessante, ma no, Bjorn subito dopo è tornato a Kattegat, quindi questo personaggio è stato lasciato lì, e sti cazzi presumo che abbia fatto la sua vita. Comunque sì, Cassia per il suo limite del personaggio e per la sua quantità di azioni abbastanza idiote, la mettiamo al posto 54. Questa merdaccia grassocia, signori, mi stava ad avere largamente sulle balle. Il diritto si porta con sé la posizione numero 53 della classifica, in quanto è un personaggio che davvero non ha senso di esistere, perché si dà tante arie, tanto io sono bravo, io difenderò la città di Parigi, così, ma poi in realtà alla fine fallisce in maniera clamorosa, solamente l'intervento di Rollo successivamente permetterà alla città di sopravvivere, ma il fatto è che è veramente un personaggio, un inetto clamoroso, che non vuole altro che frustare le donne perché deve in qualche modo sfogare la sua rabbia, ripressa il fatto che ha un impotente, inutile stronzo. È questo il fulcro di questo personaggio, questo piccolo uomo che tenta appunto di fare cose di cui non è in grado, di fare scelte di cui non è in grado, tant'è che la moglie complotta silenziosamente con l'altro lì, cortigiano di corte, per rovesciarlo. Infatti alla fine viene gabbato nel modo più assurdo possibile, cioè viene gabbato col suo stesso metodo con cui inflige dolore a sua moglie, o comunque alle donne, perché di dolore è stato dolore, chi dolore inflige, chi dolore perisce, chi frusta perisce, chi difrusta, insomma avete capito. È un personaggio davvero che non... fa schifo. È veramente un personaggio che è repellente davvero, non solo per la sua, diciamo, violenza contro appunto la moglie, ma anche per il fatto che è un personaggio inutile, un patetico piccolo uomo, citando Bjorn. E a chiudere questa catena di personaggi peggiori del fondo della classifica c'è Harbard. Ebbene sì, signori, io non ho capito chi sia questo qui, da dove venga, ma soprattutto quale sia stato il suo senso. Cioè, era presente nel villaggio di Katega tutte le volte che Ragnar andava via. E non è Odino, perché Odino è apparso con un'altra forma a Katega per annunciare la morte di Ragnar ai suoi figli. E potrebbe essere tranquillamente un altro dio, questo viandante? Il fatto è che cosa vuole fare questo qui? Vuole, diciamo, inseminare tutto quanto per il villaggio di Katega da partire dalla regina Aslog? e non l'ho capita questa storia qui, però lui entra, si bomba tutti quanti, chiama lo scemo, tutti quanti, chiama lo scemo, e poi se ne va e non è più tornato. E è rimasto lì, questo sospeso, quella sua storyline, boh. Io rimango dell'idea che questo fosse semplicemente un tizio che si dava tante arie, ma che si voleva bombare alla fine con questa arie di misticismo del viandante, no? Tutte quante le, diciamo, le giovani donzelle di Kategat, e niente, tutto qui, alla fine non c'è stato spiegato nulla, quindi l'ho messo di diritto alla posizione numero 52. Ragazzi, spero che questo primo video vi sia piaciuto. Non è stato semplice montare tutto quanto, ma alla fine spero che appunto il risultato vi sia gradito. Ovviamente questo video avrà un seguito, avrà più seguiti appunto perché dobbiamo arrivare mano a mano fino in cima alla classifica. Mi pareva un modo interessante per ricapitolare un attimo quanti personaggi abbiamo visto, sia belli che brutti, di Vikings. Per il momento è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!